Per vendere si sa l'estetica è importante, infatti i progettisti hanno sapientemente nascosto la vite a brugola di fissaggio, decidendo di sacrificare la robustezza. Essendo fallita anche l'ennesima riparazione eseguita seguendo gli stessi principi dei progettisti, ovvero che salvaguardando l'estetica, ho deciso che lo scopo finale di questa ultima riparazione fosse quello di limitare il numero di imprecazioni. Pertanto ho deciso di usare una vite come si deve per fissare la leva del miscelatore direttamente sulla cartuccia. Fatto un bel buco sulla leva del miscelatore esattamente in corrispondenza del moncone della cartuccia, riposizionato il tutto ed avvitata la vite, il miscelatore sarà a prova di bubu. L'orso Bruno Marsicano che, per farsi perdonare delle sue continue incursioni nel mio orto, viene a lavarmi i piatti, ma gli ricordo sempre che sulla magliella ci sono due femmine fertili che lo aspettano per evitare l'estinzione della specie. Spesso le cose non destinate alla vendita sono le migliori, ma effettivamente con questa vite in bella vista non l'avrei comprato. declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse invitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.